Sera da Fontana, Caruso resta sindaco. La lista insieme per Serrara con 1.247 voti vince le elezioni amministrative del 5 giugno, battuta per la seconda volta Tilde Trofa che registra anche un calo di voti rispetto al 2011. Giù le mani dal Manzoni, mamme in rivolta a Casa Micciola, Consiglio Comunale infuocato con le mamme casamicciolesi appoggiate anche dai consiglieri di opposizione. Arnaldo Ferrandino, il diritto allo studio dei bambini e delle elementari va tutelato. L'Acquameno-Villargusto gestita dai privati, dopo le polemiche dello scorso anno sulla vendita del museo, ora l'amministrazione comunale sembra orientata verso l'accessione della gestione ai privati. Campionato Ordine dei Commercialisti, trionfa Napoli, Trani vince la Coppa Italia e concluse il Campionato Nazionale a vincere il Tricolore e l'Ordine dei Commercialisti di Napoli che in finale ha battuto l'Ordine di Bari. Dopo il telegiornale, per speciale porto campo, trasmetteremo la partita Ischia-Messina. Benvenuti al consueto appuntamento con informazione di Tele Ischia. La protezione civile della Regione Campania ha diramato un avviso di criticità idrogeologica di colore giallo sull'intero territorio. Domani, a partire dalle 10 fino alle 20, una perturbazione porterà a piogge temporali che potrebbero avere anche forte intensità. L'attuale situazione meteorologica e l'evoluzione attesa per le prossime 24-48 ore è caratterizzata da una consistente incertezza spaziale e temporale in relazione alla presenza dei fenomeni attesi. La criticità idrogeologica di colore giallo è connessa all'elevata vulnerabilità del territorio regionale. La protezione civile raccomanda agli enti competenti di porre in essere tutte le misure previste dai piani comunali di protezione civile. Elezioni con 1.247 voti, pari al 62,94% dei voti espressi. La lista insieme per Serrara Fontana vince le elezioni amministrative del 5 giugno, riconfermando così Rosario Caruso nella carica di sindaco del Comune Collinare. All'antagonista Tilde Trofa sono andati 734 voti, pari al 37,05% dei voti espressi. Per la cronaca, a Serrara Fontana hanno votato 2.020 elettori su 2.994, pari al 67,46%. Le schede bianche sono state 12 le nulle 27 dei 12 seggi in Consiglio Comunale, 8 vanno alla maggioranza e 4 all'opposizione. E rispetto alle elezioni del 2011 cala il numero dei votanti, allora andando in 2.118 varia al 71,07%. Migliora di circa 3 punti la lista del sindaco Caruso, che nel 2011 aveva vinto con il 59,51%, oggi arriva quasi al 63%. Calano i consensi per Tilde Trofa, che scende dagli 840 di 5 anni fa ai 734 di ieri, con una differenza di 3 punti percentuali, dal 40,48 al 37,05%. Giù le mani dal Manzoni, Consiglio Comunale infuocato con le mamme casamicionesi che sono intervenute nel dibattito per protestare contro l'ipotesi di fitto del presso scolastico all'Istituto Mennella. E nonostante le proteste, il sindaco Castagna lascia ancora intendere che se l'offerta economica della città metropolitana dovesse essere congua, il Manzoni sarà fittato. Vediamo il servizio di Gennaro Sagi. Si è spostata nel Consiglio Comunale la vibrata e decisa protesta della popolazione scolastica dell'Istituto Comprensivo Statale Ibsen di Casamiccio La Terme, che rischia seriamente di perdere la disponibilità dell'edificio scolastico Manzoni. Infatti, dopo aver subito il danno di aver dovuto svolgere per anni lezioni in un immobile fatiscente e persino pericoloso, ora che sono in via di ultimazione i lavori di ristrutturazione messa in sicurezza, insegnanti, alunni e genitori rischiano la tremenda e vergognosa beffa di vedersi sottratto il proprio edificio scolastico. E così gli alunni del Manzoni, che nell'anno scolastico in corso si sono arrangiati presso il plesso Ibsen in classi ricavati in scandinati ed aule di laboratorio, rendendo impossibile per quest'anno lo svolgimento delle importantissime attività laboratoriali, rischiano lo sfratto dalla propria scuola, che si è appena rifatta il look, perché il sindaco Gian Battista Castagna sta valutando la stravagante ipotesi di fittare il Manzoni alla città metropolitana per poter ospitare l'Istituto Professionale Mennella. E questo ha lo scopo di rimbinguare le disastrate casse comunali, a danno di un'intera popolazione scolastica. Assurdo. Alla seduta del civico consesso, che si è tenuta nella stanzetta del sindaco, perché nonostante l'aula consigliare non fosse ancora agibile, non si è provveduto ad indirlo in un'altra e più capiente sede, hanno partecipato tante mamme, a cui il presidente del Consiglio, Vincenzo D'Ambrosio, nel rispetto dei valori e dei principi espressi dalla nostra Carta Costituzionale, ha dato la possibilità di intervenire, consentendo persino il dibattito e il confronto tra i cittadini e gli eletti del popolo. Susi Capuano, a nome dei genitori del Manzoni, ha detto chiaramente che non si possono risolvere i problemi di una scuola a discapito di un'intera popolazione scolastica. Il consigliere comunale di opposizione, Luigi Mennella, nel confermare che l'idea dell'amministrazione è quella di fittare il Manzoni all'ex provincia, ha denunciato il fatto che in merito un documento sarebbe stato registrato in un protocollo interno e non in quello generale. La cosa più assurda ed intollerabile di tutta questa vicenda, che rende politicamente e amministrativamente scelerata la posizione dell'amministrazione comunale, è determinata dal fatto che il sindaco abbia preso al vaglio un'ipotesi senza aver prima assicurato un'alternativa alla popolazione scolastica del Manzoni, i cui alunni sono i soli titolati, per continuità storica, ad occupare quella scuola. E nonostante le vibrate giuste proteste, il primo cittadino, anche in consiglio comunale, si è ostinato a difendere la bontà della sua operazione, confermando di attendere sino al prossimo 7 giugno la proposta dell'ex provincia, per poterla valutare. Assurdo. Bennella all'istituto Manzoni non è condiviso, oltre che dalle mamme dei bambini, anche dall'opposizione in consiglio comunale. Arnaldo Ferrandino ritiene infatti che nonostante siano presenti le esigenze degli studenti del Bennella, non si possano sacrificare i bambini degli elementari, che hanno il diritto di vedere tutelato al massimo il loro diritto allo studio, in un ambiente accogliente ed idoneo alle proprie necessità. Sentiamo Arnaldo Ferrandino. Arnaldo Ferrandino, la situazione per le scuole di Casa Miccio è molto complicata. Da una parte il Manzoni, che il sindaco Castagna sembra voler dare in affitto alla città metropolitana e quindi dall'altra il trasferimento delle classi definitive all'Ibsen. Beh, io penso che la questione del Manzoni sia estremamente significativa del modo di fare questa amministrazione, perché il sindaco presenti le mamme in consiglio comunale ha dapprima negato di aver fatto qualsiasi richiesta alla provincia di fitto dell'immobile. Dopo, di fronte alle prove evidenti, ha detto sì, ma io ho acciduto da buon padre di famiglia arrampicandosi sugli specchi. Ad oggi non c'è nessuna certezza. C'è la volontà chiara dell'amministrazione di dare la scuola alla provincia, se la provincia chiaramente paga, e quindi con buona pace dei bambini delle scuole elementari e dei ragazzini delle scuole medie. Io ritengo che sia un grossissimo sbaglio, perché è vero che abbiamo dei problemi economici seri, però penso che il diritto allo studio dei ragazzini, dei bambini, debba essere privilegiato rispetto a quello dei più grandi. Tutti hanno diritto a una scuola che funzioni, però nel momento in cui sappiamo in Italia che tra gli ideali e poi i casi pratici ci sono delle differenze, per cui bisogna, secondo me, privilegiare i ragazzini, perché un bambino di sei anni che si approccia per la prima volta alla scuola non deve avere la percezione che anche la scuola sia lo specchio della società che tutto fa discende, provvisorio e cadente. Ricordiamo che tra l'altro il trasferimento delle classi del Manzoni all'Ibsen hanno comportato anche per l'Ibsen la chiusura dei laboratori, perché questi ragazzi sono stati alloggiati ai laboratori oltretutto. Ci ricolleghiamo a quello che dicevo prima, è chiaro che ci sono disagi per tutti quanti. Avendo la possibilità di risolvere per bene i problemi dei ragazzi delle scuole medie, i problemi dei ragazzi delle elementari, cominciamo a risolvere seriamente questi problemi. Poi è evidente che nessuno vuole mettere in secondo piano il problema dei ragazzi che frequentano l'Istituto Mannella. Però è altrettanto vero che dovendosi dare delle priorità cominciamo a non crearci dei problemi dove non ci sono. Poi andiamo ad affrontare gli altri. Caos veicolare questa mattina nella zona di Casa Micciola Alta per l'ennesima chiusura di via Spezieri è interessato nuovamente da lavori stradali per riparare il cavo telecom danneggiato. Casa Micciola Alta non ha più pace da quando mesi fa sono stati effettuati i lavori stradali che non sono mai terminati completamente e che in più hanno più volte provocato danni ai cavi telefonici. Oggi una nuova ordinanza del comandante dei vigi urbani di Casa Micciola che interdisce al traffico veicolare via Speziere per la riparazione del cavo telefonico Telecom. Da oggi fino all'8 giugno la strada sarà chiusa al traffico dalle ore 8 fino alle 17. È stato riaperto il caso del giovane Vincenzo Mazzella morto in un incidente stradale il 6 giugno 2014 a Casa Micciola. Il GIP Roberto Azzinno ha accolto l'opposizione presentata dall'avvocato Bruno Molinaro contro la richiesta del PM di archiviazione. Per i dettagli il servizio. È stato riaperto il caso del giovane Vincenzo Mazzella morto in un incidente stradale il 6 giugno 2014 a Casa Micciola. Il GIP Roberto Azzinno ha accolto l'opposizione presentata dall'avvocato Bruno Molinaro contro le richieste del PM di archiviazione. Le immediate indagini consentirono di appurare che il conducente del motociclo Vincenzo Mazzella proveniente da Ischia, giunto all'altezza del Bartopless tentava di sorpassare un grosso autotreno andando a collidere con una Opel Corsa proveniente dalla direzione opposta. A causa del violento impatto il Mazzella rovinò rotolando sull'asfalto finendo presumibilmente sotto il gancio centrale che collega la motrice con il rimorchio dell'autotreno. L'avvocato Molinaro ha presentato un'articolata perizia redatta dall'ingegnere Benito Trani consulente di parte basato sulla cinematica del sinistro e la criticità e cronta dittorietà della consulenza disposta dal PM. Il GIP Roberto Azzinno dopo aver letto gli atti del procedimento penale iscritto nei confronti di Marco Pesce e Luigi Oratore e dopo aver esaminato la richiesta di archiviazione presentata dal Pubblico Ministero e l'atto di opposizione presentato dai fratelli Massimo Mazzella, Roberta Mazzella e Francesco Mazzella tenuto conto delle risultanze dell'udienza camerale ha disposto di rigettare la richiesta di archiviazione e nel contempo ha disposto l'effettuazione di nuove indagini. Queste nuove indagini dovranno accertare se la strada percorsa dai veicoli coinvolti nell'incidente che provocò il decesso di Vincenzo Mazzella fosse interessata al momento del sinistro da lavori stradali o dalla presenza di cantieri che determinassero restringimenti della carreggiata o se ci fossero in prossimità del punto di impatto transenne a protezione di buche o altri dissesti. Si dovrà accertare la condotta di guida del conducente del ciclomotore il percorso seguito la traiettoria e la durata del sorpasso nonché il punto di impatto tenendo in debita considerazione anche le immagini estrapolate dalle riprese della videosorveglianza. Bisognerà accertare inoltre anche la condotta di guida del conducente dell'autotreno e quale significato si dovrà attribuire all'andamento delle tracce di frenate a cavallo della linea di mezzeria per verificare se queste sono riconducibili o meno all'auto articolato evidenziando se le condotte dell'autotreno abbiano causato l'evento mortale. Infine si dovrà pure verificare la condotta di guida del conducente della Opel Corsa per accertare se si sia conformata alle regole cautelari che impongono di evitare ogni pericolo per la sicurezza delle persone o delle cose e in ogni altra causa di disordine per la circolazione. Il GIP dottoressa Zinno ha così concesso cinque mesi per l'effettuazione di queste ulteriori indagini. La egrate del canalone che da Piazza Croce a Ischia porta alla spiaggia di San Pietro necessitano di manutenzione. Lo segnala un cittadino ischitano che aggiunge l'acqua delle ultime piogge non defluisce. Ovviamente l'acqua stagnante di Dombini oltre ad essere il segno di un'ostruzione crea cattivi odori e l'ambiente adatto al proliferare di zanzare. Il cittadino ischitano ha postato le foto e il messaggio sulla bacheca Facebook del vice sindaco di Ischia Enzo Ferrandino. Ed il vice sindaco Enzo Ferrandino ha pubblicato oggi sul suo profilo Facebook il resoconto del sopralluogo alla scuola materna Marconi. Stamattina work in progress scrive il vice sindaco si manutengano gli infissi e le porte interne per avere la scuola pronta in tempo utile per il prossimo anno scolastico che avrà inizio nel mese di settembre mentre i bambini sono stati impegnati in palestra tra canti e coreografie per la festa finale prima delle vacanze. Dopo le polemiche dello scorso anno sulla vendita di Villa Arbusto ora l'amministrazione dell'Acquameno sembra orientata verso l'accessione della gestione ai privati. Ad aprile il Comune ha pubblicato un avviso per testare l'interesse dei privati e molti hanno risposto all'appello lacchesi isolani ma non solo. Vediamo. Sotto i riflettori l'amministrazione dell'Acquameno sta infatti cercando una soluzione che riesca a restituire il complesso museale ai fasti del passato mantenendo la proprietà nelle mani del Comune ma senza che sulle casse dell'ente gravino i costi di gestione. Dopo le voci di una possibile vendita che si erano rincorse lo scorso anno e alle quali il mondo della cultura nazionale e non solo aveva risposto con una petizione a difesa del Museo che raccoglie le più antiche testimonianze di quello che è considerato il primo insediamento dei greci in Italia meridionale oggi sembra che l'amministrazione sia indirizzata verso la cessione della gestione ai privati. A fine aprile il Comune aveva infatti pubblicato un avviso esplorativo e non vincolante per verificare l'interesse di soggetti privati alla gestione dell'intero complesso e all'avviso hanno risposto in molti lacchesi isolani ma anche romani e siciliani. l'associazione lacchese Isclanova che fa capo a Michele D'Ambrosio l'armatore Salvatore Lauro un soggetto giuridico riconducibile al gruppo Pietratorcia della famiglia Iacono la fondazione opera Pia Iacono Avellino Conte che nei mesi scorsi aveva già presentato un progetto per la gestione del faro di Punta Imperatore un gruppo siciliano di cui farebbe parte un gruppo specializzato proprio nella valorizzazione di beni culturali. Ora le istanze pervenute saranno valutate da una commissione tecnica qualificata che redigerà una relazione sulla base delle proposte pervenute e dalla quale dovrebbe emergere la soluzione gestionale ritenuta ottimale per la tutela e la valorizzazione sia di Villa Arbusto che del Museo di Pitecuse. Tale soluzione se condivisa anche dall'amministrazione comunale sarà da supporto all'avviso pubblico teso ad individuare il concessionario che gestirà la villa nei prossimi anni. In un momento in cui le casse dei comuni sono sempre più in crisi la partnership con i privati è il modello di gestione seguito ormai da moltissime amministrazioni in Italia e in Europa. I timori sono sempre gli stessi ossia che vengano favoriti gli amici degli amici la speranza che questa volta si agisca nell'interesse della collettività e non di qualche gruppo ristretto. Il complesso di Villarbusto è un tesoro di valore inestimabile che merita di essere valorizzato e protetto dall'incuria dalla mala gestio e dagli avvoltoi. È stata convocata l'assemblea del Cisi per domani martedì alle 10.30 in prima convocazione e per mercoledì in seconda convocazione. All'ordine del giorno l'autorizzazione interoga degli scarichi infognari la programmazione del personale nel medio periodo presentazione bozza di avviso pubblico per uno stage dei reparti tecnici ingegneri e geometri. Il sindaco di Barano Paolino Buono ha convocato per domani martedì a mezzogiorno il Consiglio Comunale. All'ordine del giorno il bilancio di previsione finanziaria per il triennio 2016-2018. Il gruppo Perprocida critica l'amministrazione Ambrosino per le ordinanze 71 e 73. Nell'ordinanza 71 si ordina a tutti i proprietari di unità immobiliari prospettanti la Marina Grande e la Marina Corricella di rimuovere elementi impropri apparecciature esterne di condizionamento d'aria e canne fumari in particolare nonché caldaie antenne satellitari e paraboliche dalle facciate delle medesime. Nell'ordinanza numero 73 si ordina di sospendere tutti i lavori edili esterni o comunque rumorosi in località Marina Corricella dal 15 maggio al 15 settembre. Come gruppo Perprocida si legge nel comunicato pur condividendo l'azione intrapresa dall'amministrazione riteniamo sia ragionevole imporre di eseguire i lavori che interesseranno prevalentemente attività commerciali di Marina Grande e Corricella nel pieno della stagione turistica tant'è che lo stesso sindaco forse in un barlume di lucidità ancora rimasto nell'ordinanza 73 contraddicendo quello che scrive nell'ordinanza 71 a Marina Corricella ordina la sospensione di ogni attività dal 15 maggio al 15 settembre. A questo punto chiediamo al sindaco di annullare immediatamente l'ordinanza numero 73 e di convocare una riunione dell'apposita commissione consigliare per avviare un confronto costruttivo sull'argomento tra le forze politiche presenti nel Consiglio Comunale. Vittorio Storaro direttore della fotografia tre volte premio Oscar e lo sceneggiatore americano Barry Morrow riceveranno l'Ischia Legend Award in occasione del 14esimo Global Film Music Fest programma Ischia dal 9 al 17 luglio. Vittorio Storaro presenterà Ischia una proiezione speciale di Muhammad The Messenger of God diretto da Masjid Masjidi il colossal iraniano sull'infanzia di Maometto cui il cinematografer romano ha dedicato tre anni di lavoro. Morrow porterà al Global Fest le prime immagini della sua opera prima da regista Smitten girata in Trentino. Si è concluso il campionato nazionale dell'ordine dei commercialisti ed esperti contabili a vincere il tricolore è stato l'ordine dei commercialisti di Napoli che in finale ha battuto il Bari la Coppa Italia invece è stata vinta dal Trani che in finale ha battuto il Salerno. Vediamo i servizi. È stato un lunghissimo pomeriggio quello di sabato per le squadre partecipanti al campionato nazionale dell'ordine dei commercialisti ed esperti contabili si è svolta infatti la finalissima tra il Napoli e il Bari che ha fatto seguito alla finalina tra Catania e Benevento. Finale primo e secondo posto a vincere il tricolore è stato l'ordine dei commercialisti di Napoli una vittoria aggiunta solo dopo i calci di rigore. Nei tempi regolamentari a sbloccare l'incontro era stato il Bari al nonno minuto Coratella scatta sul filo del fuorigioco e serve un assist perfetto per Cianatico che non sbaglia a porta sguarnita. Bari in vantaggio alla prima occasione utile con gli azzurri che dominano nel possesso palla senza però creare grossi problemi al portiere avversario. Il Napoli insiste e trova il pareggio al trentaquattresimo cross di Bernardo sul secondo palo sponda per Castaniere posizionato a due passi dalla porta e gol che vale l'uno a uno. Nella ripresa i ritmi calano vertiginosamente la partita non regala particolari emozioni il Bari sembra aver finito la benzina ma dall'altra parte il Napoli non fa granché per passare in vantaggio. Si arriva così ai tempi supplementari nei quali bisceglie del Bari si vede annullare giustamente un gol dal direttore di gara la nostra Angela Capezza. L'inerzia sembra invertirsi il Bari sembra avere più energie di un Napoli visibilmente stanco dopo 90 minuti di dominio territoriale. Tante interruzioni e poche emozioni nessuno si stacca dall'uno a uno e allora si va ai rigori. Parte Gabriele e c'è il gol 1 a 0 c'è il fischio dell'arbitro parte Montinari il gol 1 a 1 si è arrivati dunque fino in fondo per assegnare lo scudetto e c'è il gol parte Scianatico il tiro e sbaglia Scianatico ora sul dischetto il numero 9 d'Angelo sbaglia occhio c'è la parata la parata di Marrone contro Fradosio parte Catapano e c'è il gol attimi di apprezzione parte Gigante e c'è il gol non sbaglia Rocco sul dischetto parte Rocco e allora vince il Napoli ai calci di rigore finale del terzo e quarto posto finalina sicuramente più entusiasmante tra Benevento e Catania che si sono date battaglia negli 80 minuti regolamentari dopo un primo tempo a tratti noioso e privo di emozioni nel secondo tempo le due compagini danno spettacolo al diciannovesimo la sblocca il Benevento con Leonardo ma dopo cinque minuti pareggia il Catania Russo si fa trovare pronto sul pallone che un attimo prima aveva scheggiato la traversa e porta i suoi compagni in parità se nel primo tempo i siciliani meritavano qualcosa in più nella seconda frazione il Benevento gioca decisamente meglio ed ottiene un meritato vantaggio al ventinovesimo al siclare il 2 a 1 è Verdino autore di un bel tiro da fuori area la partita termina sul 2 a 1 per il giallorossi che salgono sul terzo gradino del podio ribaltando i pronostici che vedevano il Catania nettamente favorito a Barano si è giocato invece per la Coppa Italia al Don Luigi Di Orio il Trani alza la Coppa dopo aver battuto in finale il Salerno ai tempi supplementari 1 a 0 terzo posto per Nocera che supera il Latina per 3 a 1 al di là dei risultati sportivi vanno fatti complimenti alla organizzazione ischitana tanti dottori commercialisti sono sbarcati in questo ponte del 2 giugno sulla nostra isola con le rispettive famiglie ancora una volta lo sport si dimostra veicolo importante per il nostro turismo l'iscitano Gianni Sasso protagonista anche al mondiale di paratriathlon in Scozia vince Wersi dopo la bici il più veloce anche nella corsa davanti a Morales Gianni Sasso con 25 primi e 45 secondi è terzo nella corsa e per la somma d'età in picchiude con un altro bronzo punti pesantissimi per Rio 2016 la box la matricola De Novellis di Ischia dopo aver trionfato nella fase regionale a Pomigliano d'Arco si mette in mostra anche al campionato italiano che si sta svolgendo a Rimini Fiera nell'ambito dell'evento Rimini Wellness sia Alessandro Sodano che Giuseppe Bracco Valentino hanno conquistato un inaspettato secondo posto nella massima competizione a livello nazionale Alessandro ha perso solo in finale nella categoria Juniors 65-75 mentre Giuseppe ha ottenuto la medaglia d'argento nella categoria 65-75A se i due ischitani hanno ben figurato grossi meriti vanno anche al maestro Giovanni Giuseppe Scotti di medaglie ne ha vinte tante anche lui che sta provando a dare un contributo importante alla crescita di questo sport sulla nostra isola Subito dopo il nostro telegiornale trasmetteremo per uno speciale a Bordocampo la partita di calcio Ischia Messina valida per il campionato di calcio di Lega Pro Unica 2014-2015 siamo in chiusura vediamo il tempo che farà nella giornata di domani tempo discreto cielo poco nuvoloso o sereno salvo locali addensamenti durante il pomeriggio temperature stazionare venti deboli di direzione variabile mare poco mosso grazie per averci seguito vi lascio ai nostri programmi e ci rivediamo come sempre alle 14 arrivederci grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti